Un banalissimo incidente stradale, poi l'impensabile. Due automobilisti cominciano a litigare proprio davanti al commissariato di via Gilardelli. Passano alle vie di fatto e a un tratto il ragazzo al volante dell'auto che ha tamponato rimette in moto e cerca di allontanarsi. A quel punto intervengono gli agenti che cercano di fermarlo. Il giovane perde la testa, ritampona l'auto che ha davanti, mette la retro e picchia contro quella che ha dietro. Infine apre la portiera e si lancia in una fuga disperata a piedi con gli agenti che lo inseguono. È successo giovedì 20 verso le 19 e la scena è stata ripresa da un passante. Nonostante la velocità dimostrata nella fuga, il giovane è già stato rintracciato e denunciato.